Salve a tutti e di nuovo bentornati su Jazz Convention on TV. Fabio Ciminera ha intervistato Jeff Warren in occasione dell'uscita del nuovo album intitolato The Quartet Album e della pubblicazione di Luminosti, un disco doppio basato sulle ultime suites di Graham Collier, di cui il flautista inglese ha curato la direzione orchestrale. L'intervista con Warren è stata registrata in italiano e si può ascoltare direttamente dalla home page del sito. Sono come di consueto tre le recensioni in home page, 39 Steps del John Abercrombie Quartet, Racing Connection della cantante Vanessa Tagliabue York e New Friday Morning del Salvatore Arena Passun Jazz Quartet. Nella sezione articoli di questa settimana trovate l'articolo di Guido Michelone sull'International Jazz Day e il reportage di Gianni Montano sull'Open Jazz di Ivrea. Ricordiamo i musicisti e gli operatori del settore che possono pubblicare in modo autonomo e gratuito le notizie relative agli eventi e alle uscite discografiche nelle pagine agenda e comunicati del sito. Tutto questo con continui aggiornamenti e contributi sempre nuovi li potete trovare naturalmente su www.jazzconvention.net e sulle principali pagine di tutti i social network. Nel frattempo vi saluto, vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Jazz Convention on TV e vi auguro una felice Pasqua! Grazie a tutti!